Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Oggi torneremo su Inside con il secondo episodio. Iniziamo! Io mi devo buttare sui porci? Vai, allora, prendiamo la rincosta. C'è l'anima! Che schifo! Cazzarola! Però mi si è salvata, no? Allora, devo spostare i porci. Saranno mica un po' pesanti per te, ragazzini. E quelli cosa sono, serpenti? Stanno morendo tutti gli animali, fatemi capire. Per questo, allora, che prendono gli si romani. Che cosa sono queste cose? Schifo. Vai, vai, cammina, cammina. Io non vedo nessuno. Amico mio. Salta. Qua, ti rampicare. Bra, bra. Madonna, com'è attivati questo ragazzino. Oddio, raga, ma quello cos'è? Riesce proprio da lì dietro. Oh mio Dio, no, 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 no. Perché ce l'hai con me? C'hai un verme che ti mangia al culo e te la prendo con me. Sento cielo. Cosa sono quelle persone? Lasciami. Ma santo Dio. Oh no. Adesso non ti mangio più. Cioè, non ti mangia più, non ti mangio. Vieni, porci. Poveretto, ma sta soffrendo tantissimo, raga. Mettiti qua, per favore. Devo salire qui. Cosa? Oddio, ma seriamente? Cosa dobbiamo fare? Madonna, cioè io con questa cosa posso controllare la mente di quei rovi lì. È impressionante. Solo che devo capire cosa devo fare. Oh, si sono liberati? Amici, mi avete fatto strada, grazie. Ora posso mollare qua. Grazie, amici, ma perché siete ridotti così? Oh, santo cielo. Santo, santa paletta. Andiamo per di qua. Allora, dove ci stiamo dirigendo? E soprattutto qual è il nostro obiettivo? Che ancora non si è capito. Oddio. Che cosa hanno quelle persone? Perché io sono l'unico che non è così? Devo prendere sta catena. Probabilmente sì. Tiriamo indietro qua. Ok, ma prima la devo staccare qui. Ah no, la devo far scendere. Ok. Perfetto. Scegliamo su. Cosa troveremo sopra? Oddio, c'ho paura. Ok. Dobbiamo entrare qua dentro. Ora. Altri polcini? No, non sono polcini, sono uccellini. Ok, quel roba là sopra mi sa che lo devo far cadere io. Probabilmente sì. Da qua muoio, sicuro. Olè. Questo cos'è? Prendiamolo. No, però lo devo girare. Aspetta. Devo girarlo così. Sì. Proviamo. Dovrei riuscire a saltarci sopra. Proviamo. Sì. Ok. Olè. Questa la devo buttar giù. Oh cazzerola. No, dovevo subito andarmene. Eh ma ora io devo scendere lì giù. Ma se muoio? Ok, non muoio. Questo che cacchio è? Ho rotto qualcosa. Ma cosa serve? E mi da un attacare ok uno qua e uno qua come faccio a farli combaciare? adesso devo chiudere qua probabilmente riproviamo adesso combaciano ok abbiamo aperto la porta mamma mia bene ragazzi con questo secondo episodio io direi di chiudere qui se il video vi è piaciuto lasciate un bel like commentate condividete mi raccomando iscrivetevi al canale vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao